Lo aveva annunciato il giorno delle elezioni della nuova governance di Aca. Il sindaco di Primio, dopo un acceso scontro con il sindaco di Francavilla, Antonio Luciani, aveva avvisato che dall'entrata in vigore del decreto Madia, lo scorso 23 settembre, quelle elezioni sarebbe stata nulla. Vi è una legge, la Madia, che oggi impone in qualche modo alle società pubbliche di avere l'amministratore unico, sarebbe stato invece meglio votare un amministratore unico che continuasse l'opera di risanamento e che potesse programmare con i comuni, con un'assemblea scevra da condizionamenti politici, ovviamente anche gli investimenti. Da quell'ottobre oggi Forza Italia, il nuovo centrodestra, i sindaci, i contrari a quell'elezione, si trovano a fare i conti con qualcosa che poteva essere evitato e che rischia di paralizzare una situazione già critica. Il centrodestra dice che abbiamo la rappresentazione plastica della follia messa in piedi dal Partito Democratico, con la complicità di alcuni altri soggetti. E' del 2 di novembre una nota da parte dell'Ato, indirizzata al Consiglio di Amministrazione di Aca, in cui Ato dice sostanzialmente che dovete limitarvi alla ordinaria amministrazione perché probabilmente la vostra nomina è illegittima e contro la legge Madia, che era la tesi che abbiamo sostenuto sin dal primo momento. La cosa è gravissima perché corre il rischio di paralizzare completamente la società perché di ordinario in un'attività tesa alla gestione del concordato fallimentare, come è noto, non c'è assolutamente nulla e quindi siamo seriamente preoccupati del rischio paralisi che ci sarà. In particolare su Pescara c'è un rischio ancora più grande che il 31 dicembre scade il contratto di gestione del depuratore. Grazie.